Cattiva strada è una campagna di sensibilizzazione che abbiamo condiviso, anzi fortemente voluta dal laboratorio di Francesco e dall'associazione degli amici di Michele e Giuseppe, ragazzi che hanno perso la vita purtroppo in maniera tragica qualche anno fa, ai quali poi si è aggiunto Antonio e tanti altri ancora. Cosa vogliamo intendere? Dare un segnale, adesso che è terminata la scuola e siamo in procinto dell'estate, che quando si si mette alla guida di un'auto o di una moto bisogna necessariamente pensare solo e esclusivamente a quello, altrimenti veramente ci rimani le penne.